Due anni di attesa, Icchieti avrà una funivia di collegamento tra la zona dello Scalo, dove si concentrano le sedi dell'Università d'Annunzio, e il centro storico, sempre più spoglio e povero di residenti. La notizia arriva dal sindaco Umberto Di Primio, che annuncia il reperimento di altri 4 milioni di euro a quelli già destinati al progetto. Fondi originariamente destinati dal masterplan alla funivia che invece doveva sorgere a Teramo per compiere l'identica funzione, collegare l'area universitaria al centro città. E dopo il no di Maurizio Brucchi sarà Icchieti a beneficiarne, anche se in parte. La funivia di Icchieti è una funivia che non solo sarà un'infrastruttura capace di dare alla città un nuovo elemento di attrazione, perché oltre ad avere una funzione chiaramente di collegamento tra la parte alta e la parte bassa della città in un tempo rapidissimo, perché parliamo di 6 minuti di tempo per arrivare dall'ospedale sino al centro storico, è anche una grande attrazione turistica. È un trasporto massivo, cioè dove riusciamo a portare molte persone in un brevissimo tempo, è un'opera che ci consente soprattutto di mettere insieme l'anima pulsante in questo momento della città, che è l'area dove insistono ospedale e università, con il centro storico, con l'anima storica della nostra città. Siamo in attesa solo dell'ufficialità del trasferimento su quel capitolo di quei soldi e sull'approvazione da parte del comitato. Ovviamente se e quando arriverà la notizia, al più presto mi auguro, sarà anche avviata la procedura per la selezione del progettista del preliminare e quindi poi dell'esecutivo. Entro il dicembre 2017, secondo il cronoprogramma che noi ci siamo dati, avremo possibilità di approvare il definitivo e di affidare i lavori. Quindi nel tempo di massimo due anni, cioè entro il dicembre del 2018, io conto di poter restituire alla città dell'Abruzzo una nuova infrastruttura. Grazie.